Io ritengo che il paragone con la SARS, quindi con la visione SARS, non sia calzante. Ma perché? Perché era un'altra epoca anche per l'economia cinese. Cioè in quella stagione l'economia cinese non valeva un quinto del PIL mondiale, la Cina non era l'esportatore che è oggi. E anche quella fabbrica del mondo, no? Noi oggi viviamo in un contesto di economia integrata, per cui è chiaro, le ricadute immediate sono sul turismo, per quanto riguarda l'Italia sulla moda, il lusso, ma molti dei prodotti che noi consideriamo europei, nazionali, hanno una componentistica importante, cinese, che chiaramente comporta le ricadute fondamentali. Pensiamo soltanto che la Apple sta pensando di spostare la produzione dell'iPhone in India. Ma Wuhan è la Detroit cinese, attenzione, Wuhan è la Detroit cinese, quindi è come se si fosse fermata negli Stati Uniti, Detroit, cosa vuol dire questo per il mercato delle automobili? Ieri un imprenditore a Scolano mi diceva che l'85% dei bulloni, nel mondo viene prodotto in Cina. Noi potremmo volerlo sviluppare. La Cina è al mondo, il soggetto che si afferma per questo. Per non parlare della decrescita dell'industria automobilistica, che estrae dalla componentistica cinese... Allora!